Tutto quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che si farà. Di questo si è parlato in un incontro organizzato dalla ConfCommercio di Pesaro Urbino. Un anno intenso, quello appena concluso per la ConfCommercio di Pesaro Urbino, che con le sue 4879 aziende iscritte, la stragrande maggioranza piccole, riguarda questo 2019 con qualche preoccupazione, senza però avere assolutamente voglia di abbandonare il ruolo propositivo e operativo per tutto il territorio provinciale, anzi per quello che riguarda il turismo, con una branca nella zona di San Benedetto del Tronto che ha chiesto di aggregarsi. Il bilancio ed il futuro è stato tracciato dal direttore Amerigo Varotti, che ha nominato tre assistenti ed un responsabile per l'ufficio di direzione, per la sua successione, che non sarà però imminente, ha precisato con un pizzico di ironia. Dunque l'associazione è fortemente radicata sul territorio, nonostante i problemi da affrontare siano davvero tanti. La crisi del comparto del commercio è pesantissima. Nel 2018, con i dati al 31 ottobre del 2018 rispetto al dicembre del 2017, nelle Marche hanno chiuso quasi 800 imprese commerciali, 210 nella provincia di Pesaro Urbino, ma questo dato è purtroppo peggiorerà, destinato a peggiorare, perché ovviamente è parametrato da ottobre a dicembre e molte delle imprese, come è ovvio, chiudono, se debbono chiudere, chiudono a fine anno. E in più quest'anno c'è anche l'introduzione della fattura elettronica che purtroppo spinge molte piccole imprese a chiudere i battenti. Quindi è un dato molto preoccupante. Dall'altro c'è un altro dato che è preoccupante, che è l'aumento esponenziale delle vendite online, che nel 2018 sono state pari in Italia a 26,4 miliardi di euro, con un aumento del 16% rispetto al 2017. Altro dato preoccupante, la scelta ancora di molti comuni, pessima scelta, di puntare sulla grande distribuzione, varianti ai piani regolatori, outlet, supermercati, i centri commerciali. Ecco, le tre cose messe insieme ci portano a richiedere alla Regione Marche dei provvedimenti straordinari per sostenere il commercio, soprattutto il commercio di vicinato, cioè le botteghe, i negozi di vicinato, quelli che hanno 5-8 massimo dipendenti. Tanti problemi da affrontare dunque, ma anche tante iniziative propositive che continueranno ad essere messe in campo per confermare il ruolo insostituibile della Confcommercio pesarese. Quest'anno lanceremo un portale per l'e-commerce, quindi daremo ai nostri associati l'opportunità di poter vendere online con un marketplace virtuale che creiamo come Confcommercio. Abbiamo già la società che ci ha fatto il progetto e quindi adesso partiamo con l'adesione da parte delle imprese in modo che i piccoli commercianti, le aziende di servizio, le aziende agricole del nostro territorio abbiano l'opportunità oltre che di vendere nella bottega, nel negozio, anche il negozio virtuale. Altra iniziativa importantissima del 2019 è con l'itinerario della bellezza l'ingresso del Comune di Pesaro, del Comune di Gradara e del Comune di Colli al Metauro, comuni per i quali abbiamo predisposto progetti di comunicazione, di promozione a livello internazionale con il primo evento che ci sarà il 7 di febbraio a Montreal, in Canada, con la presentazione con le musiche di Rossini di Raffaello 2020. Quindi un progetto molto impegnativo che probabilmente quest'anno ci porterà a superare i numeri degli eventi fatti nel 2018. Grazie a tutti. Grazie a tutti.